L'incantevole cornice delle Cave Bianche Hotel di Favignana ha ospitato la quarta edizione del premio 91023 Eccellenze delle Isole Egadi, promossa dalla Proloco Isole Egadi con la direzione artistica di Filippo Peralta. Nel corso della serata condotta da Nini Bornice e Iana Cardinale sono stati assegnati tre riconoscimenti a donne che attraverso la propria attività hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle Egadi e alla loro valorizzazione e visibilità. I premi sono andati alla scrittrice trapanese Stefania Auci, autrice del bestseller I leoni di Sicilia, alla dottoressa Valeria Livigni della soprintendenza del mare della regione siciliana e a Janet Bertolini che ha effettuato la traversata a nuoto da Levanzo a Favignana impiegando un'ora e 57 minuti. Vivere certe emozioni, certe situazioni all'interno dei luoghi in cui questa storia è nata, è vissuta, è diventata forte ha un sapore diverso. Il premio sicuramente è un riconoscimento che io accolgo con grande onore, sono veramente onorata di questo tipo di considerazione. Io non ho fatto altro che mettere in luce una piccola parte della storia millenaria di quest'isola, una porzione che è legata appunto a questa famiglia. Però la bellezza dell'isola, la grandezza, la meraviglia che sa suscitare Favignana non dipende da Stefania Auci, dipende dal fatto che questa è davvero un'isola straordinaria. E penso che questo riconoscimento che viene dato alla soprintendenza del mare che affatica, cerca di seguire le orme di Sebastiano ma che sempre con grande tenacia stiamo riuscendo a salvare i suoi grandi progetti, stiamo riuscendo a portarli avanti e a farli decollare. E' un riconoscimento grandissimo al sacrificio di un grande uomo, al sacrificio che noi continuiamo a fare dietro e sulle sue orme e quindi un premio che ovviamente va dedicato a mio marito perché l'ha meritato appieno e continua ad essere presente con la sua tenacia nella mente di tutti noi e nelle nostre opere. Grazie. 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 Grazie a tutti